Volge al termine la campagna elettorale per la segreteria regionale del PD caratterizzata da colpi bassi e dichiarazioni al vetriolo. Il sindaco di Bari, Emiliano, ha chiuso la campagna della Fanelli mentre la Venitelli ha incontrato i dipendenti dell'ITR. Smentisce l'intenzione di ostacolare il rientro a Palazzo Moffa dell'ex governatore Iorio, l'esponente di progetto Molise e Romagnuolo che si dice invece pronto a rispettare la sentenza dei giudici. Non ha usato mezzi termini il consigliere regionale Cristiano Di Pietro che non ha gradito il fair play del governatore Frattura nei confronti di Iorio, a bacchettarlo il guerriero Sannita che ha definito sterili e inutili per il bene dei molisani le dichiarazioni di Di Pietro. In serie di occhi puntati sul derby tra Termoli e Isernia, l'Agnonese ospita la Iesina mentre il Boiano va in trasferta nelle Marche sul campo della Vispesaro. Eccellenza, il campo basso 1919 a caccia della 32esima vittoria stagionale ospita la Cliternina. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai titoli apriamo il nostro telegiornale con La Politica. Una campagna senza esclusione di colpi, quella tra le due candidate al vertice regionale del PD, Micaela Fanelli e Laura Venitelli caratterizzata da dichiarazioni al vetriolo. Domani la resa dei conti con l'esito delle primarie che decreteranno il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Il servizio. Meno male che in palio c'è solo la segreteria regionale del Partito Democratico del Molise. Laura Venitelli e Micaela Fanelli se le sono date di santa ragione in questa breve campagna elettorale per il vertice del partito. Proprio mentre il loro capo sta per diventare presidente del Consiglio al posto di letta e chiede maggiore unità prima dell'ingresso a Palazzo Chigi. Ma in Molise da anni siamo abituati ad essere considerati una nazione a parte. Da un lato il gruppo Venitelli appoggiato da Ruta, Leva, Scarabeo, Petraroia, lo stesso che aveva appoggiato Cuperlo alle scorse primarie e che non ha risparmiato dure stoccate anche personali a Micaela Fanelli, rea di aver chiesto sostegno a Frattura, Facciolla, Nagni, Di Pietro, Cotugno. Come se questi alleati presenti nel centro-sinistra in Consiglio regionale all'improvviso fossero diventati dei veri nemici, uomini da abbattere ad ogni costo. Forse la vera sfida e la grande preoccupazione è che il governo Frattura potrebbe nel rimpasto far cadere qualche assessore ed ottenere un'autonomia assoluta anche nel partito oltre che nella giunta regionale. Ma nessuno, noi sottolineiamo nessuno, fai conti con i cittadini che davvero fanno fatica sempre di più a capire cosa stia accadendo e perché dovrebbero spendere altri due euro in favore della politica molisana. Poi, se a questo si aggiunge che le casse del PD con a capo la tesoriera Costanza Carriero non sono state mai chiare, tanto che lei stessa ha dichiarato del buco e dei tanti debiti che il PD deve addirittura al pagamento dell'affitto della sede di via Ferrari. Bollette pagate sempre con ritardo e debiti anche con forniture della scorsa campagna elettorale regionale, nonostante il partito abbia incassato durante le primarie per l'elezione di Renzi. I dubbi e lo sgomento aumentano. Per fortuna il giorno delle primarie è arrivato e da domani, dalle 8 fino alle 20, si potrà votare per il nuovo segretario regionale del PD. Dunque, rush finale per la campagna elettorale delle due candidate alla segreteria a sostenere la renziana Micaela Fanelli, il sindaco di Bari Michele Emiliano, che ha definito il primo cittadino di Riccia una fortuna per il Partito Democratico. Sentiamo. Ultime ore di campagna elettorale per le candidate alla segreteria del Partito Democratico, prima dell'appuntamento con gli elettori. Un rush finale in cui non sono mancati colpi bassi e dichiarazioni al vetriolo. Se Laura Venitelli lancia accusi alla sfidante e ai suoi sostenitori colpevoli di favorire l'intrusione di altri partiti nella campagna elettorale tra cui spiccano i nomi di Patricello, Parpiglia e Di Pietro, Micaela Fanelli risponde per le rime. Alla sintesi della campagna elettorale che noi abbiamo voluto riempire di contenuti e di approcci positivi è che è un grande momento di discussione e di incontro del territorio. A livello locale, se a livello nazionale sta succedendo tutto questo turbion, questo vento, questo vortice, forse abbiamo bisogno dello stesso cambiamento. Un partito uguale al passato, rappresentato dalla vecchia classe dirigente, com'è la proposta politica dell'altra parte, credo non faccia il gioco dei tempi e di quello che sta avvenendo e di quello che c'è bisogno. A sostenere il sindaco di Riccia, Michele Emiliano, primo cittadino di Bari e ministro in pectore di Matteo Renzi. Sono qui soprattutto per una ragione, perché avevo una mia carissima amica, una persona che stimo e che credo sia una fortuna per il Partito Democratico italiano e quindi mi auguro anche per quello del Molise e volevo dimostrarle tutto l'affetto e la stima che ho per lei. Le ho appena finito di dire che quando ci sono rapporti seri tra le persone, le parole non servono, ci vogliono piccoli gesti di reciproca solidarietà ed amicizia. Io il PD me lo immagino così e sono sicuro che se Michele diventerà il segretario, ragionevolmente certo che diventi il segretario, farà di questo partito anche un luogo di amicizia, di cordialità, non solo un luogo di confusione. La parola aspetta ora gli elettori che domani potranno votare nei 97 seggi allestiti in tutto il Molise e dal Partito Democratico. Il deputato Laura Venitelli invece ha deciso di incontrare in vista delle primarie di domani dipendenti dell'ITR per discutere del loro futuro e delle strategie da mettere in campo per uscire dalla crisi. Tra le varie proposte avanzate dalla Venitelli e dai colleghi Leva e Ruta, anche loro presenti all'incontro, quella di chiedere al fondo di investimento IKF di spostare in Molise parte della produzione presente al nord Italia. Vediamo. Per la sua ultima tappa isernina in vista delle primarie per la segreteria regionale del PD, l'onorevole Laura Venitelli ha scelto di incontrare i dipendenti dell'ITR. Con lei nella sala gialla della provincia Pentra anche l'onorevole Danilo Leva e il senatore Roberto Ruta per comunicare un'alternativa all'attuale proposta di concordato presentata dal patron del Polo Tessile Antonio Bianchi. L'idea per uscire dalla crisi consiste nell'elaborare un nuovo piano che veda coinvolti direttamente la regione Molise con un 30% di quote in fase di start-up, l'IKF, il fondo di investimento interessato all'acquisto di un ramo d'azienda, i fasonisti e i lavoratori organizzati in cooperative. I parlamentari inoltre per rilanciare la produzione chiederanno all'IKF di spostare in Molise parte della produzione presente nel nord Italia, il tutto grazie ai fondi che deriveranno dal riconoscimento dell'area di crisi. Un incontro con queste persone per dire quello che stiamo facendo e quello che vogliamo fare, portare il Molise a essere riconosciuta come zona di crisi, tutto il Molise, partire dall'ITR, quindi da Venafro, da Sesto Campano fino alla costa, quindi portare sul tavolo del governo quello che è il problema Molise, il problema Molise che ha bisogno di un aiuto ma non in senso di assistenzialismo, bensì in senso di risorse che debbano essere il motore per far invogliare altri imprenditori o quelli che ci sono a recuperare la competitività e a recuperare il senso di fare impresa. Ma il Ministero non ha già riconosciuto quest'area di crisi? Il Ministro è soltanto l'inizio del percorso, infatti nell'ultimo incontro che abbiamo avuto al Ministero dello Sviluppo Economico si è parlato con l'assessore pretorio proprio di queste esigenze, di questa necessità. Tra l'altro noi con io e Danilo Leva anche a livello parlamentare abbiamo più volte richiesto un tavolo istituzionale e governativo per il riconoscimento dello stato di crisi e questo percorso parlamentare adesso sta andando avanti e deve però concretizzarsi nel vero riconoscimento, nella dichiarazione di riconoscimento dello stato di crisi. Soltanto così avremo la possibilità di avere delle risorse fresche che possano invogliare gli imprenditori, sia quelli presenti che quelli che sono fuori regione, a investire nel Molise. È soltanto così che si può recuperare la voglia di fare impresa. Recuperando la voglia di fare impresa si recuperano i posti di lavoro. E questo è il tema e questa è la scommessa. Andare al voto adesso sarebbe un disastro e per questo accetto la nomina premier di Matteo Renzi voluta da Napolitano. Questo l'intervento dell'onorevole Danilo Leva all'indomani delle dimissioni del premier Letta. Sentiamo. Letta si dimette, adesso cosa accadrà e cosa si devono aspettare gli italiani? Accadrà quello che Napolitano riterrà opportuno nel pieno rispetto delle sue prerogative istituzionali. La direzione di ieri del PD ha assegnato un'assunzione anche diretta di responsabilità da parte del partito come giusto che fosse in un momento così delicato per il Paese e credo giusto che la prima forza politica si assuma direttamente la responsabilità per costituire un governo forte e autorevole che metta al sicuro il percorso delle riforme. Un governo nuovo ma senza andare al voto? Il voto anticipato sarebbe un disastro in queste condizioni. L'ammissione dell'incapacità della politica di decidere di fare le riforme utili all'Italia alimenteremmo i populismi. Credo che sarebbe una scelta sciagurata da non prendere. Le chiavi di Palazzo Chigi verranno consegnate nelle prossime ore al segretario nazionale del PD di Matteo Renzi che di fatto succede a Enrico Letta, senza elezione e senza passaggio parlamentare. Così gli italiani ancora una volta si ritrovano con un governo nominato e non eletto. In Italia c'è la democrazia parlamentare, è così, è la Costituzione, non è che... È un sistema antidemocratico. Le maggioranze si fanno in Parlamento. È un passaggio normale, sarebbe strano il contrario. Quando faremo la Repubblica presidenziale sarà come dice lei, così invece è come dice la Costituzione. Come vede Renzi? Sarà una sfida ambiziosa per cambiare questo Paese. Dobbiamo capire come... Quella che sarà la qualità della squadra di governo, le alleanze, il programma, insomma c'è ancora molto da fare. Dallo scenario politico nazionale a quello regionale. Domenica si vota in Molise, cosa cambierà con queste primarie? Noi sosteniamo Laura Vennitelli, la sosteniamo perché è il segretario che può garantire al Partito Democratico l'autonomia necessaria e la forza e l'autorevolezza indispensabile per chiedere al governo regionale un cambio di passo. Il rientro a Palazzo Moffa dell'ex governatore Michele Iorio continua a far discutere. Secondo alcune indiscrezioni la sentenza della Corte di Cassazione sarebbe stata mal digerita dall'esponente di Progetto Molise, Nico Eugenio Romagnolo, pronto ad ostacolarne il rientro. Romagnolo ha invece smentito queste voci. Sentiamo quanto da lui dichiarato telefonicamente. Non ci sta il consigliere regionale Nico Eugenio Romagnolo ad alcune indiscrezioni che lo vedrebbero pronto ad ostacolare il ritorno di Michele Iorio a Palazzo Moffa, aggrappandosi ad un cavillo, ovvero che la sentenza di annullamento della condanna di Iorio per prescrizione non avrebbe effetto sulla legge Severino. Raggiunto telefonicamente, l'esponente di Progetto Molise ha negato le presunte illazioni a letto quanto testualmente scritto nel proprio comunicato, preferendo poi non aggiungere altro. Con un comunicato stampa che è appena fatto e che recita in merito alla vicenda del rientro in consiglio regionale del Presidente Iorio, preciso che non ho intrapreso alcuna iniziativa, come sempre rispetto alle sentenze di giudici che compito nella corretta applicazione della legge. Quindi smentisce tutto quello che è stato scritto? Questo è il comunicato, non voglio fare altri commenti perché vengo... Questo è il comunicato, ce lo scuso, ma insomma questo è. Non collaboriamo con chi ha devastato il Molise, così si è espresso il Vice Presidente della Giunta regionale, Cristiano Di Pietro, che ha contestato il fair play di Frattura, che ha invece dato il proprio bentornato a Michele Iorio auspicando una fattiva collaborazione con lui. Polemiche sterili che non portano da nessuna parte, quelle di Cristiano Di Pietro invece secondo il guerriero Sannita. Sentiamo. Sembrerebbe che non tutti i componenti dell'esecutivo Frattura abbiano apprezzato le dichiarazioni del Presidente all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione sulla vicenda Beinenco, che ha dichiarato prescritto il reato a carico di Michele Iorio. Mentre il governatore Frattura ha cercato di smorzare i toni polemici degli ultimi giorni, dando il proprio bentornato a Michele Iorio, dicendosi convinto che non mancherà la sua collaborazione per la costruzione del bene che occorre garantire a tutti i cittadini molisani, un indispettito Cristiano Di Pietro ha espresso dissenso per il fair play del Presidente dell'Aggiunta regionale Frattura. Diversamente dal governatore che ha auspicato una collaborazione tra maggioranza e opposizione, il Vice Presidente del Consiglio regionale Di Pietro ha sottolineato come non possa collaborare con chi ha creato la devastazione della nostra regione in ogni settore. Polemiche del tutto sterili, queste per Giovanni Muccio del guerriero Sannita. Basta con le contrapposizioni e polemiche che non portano da nessuna parte a Tonato Muccio. Il popolo molisano vuole che tutta la classe politica si impegni fattivamente alla risoluzione dei propri problemi, che ne sono molteplici, disoccupazione, cassa integrazione, guadagni, indennità di disoccupazione e mobilità. Secondo il guerriero Sannita sarebbe proprio Di Pietro a sbagliare con le sue esternazioni nei confronti del Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura e i suoi solidali. Una stoccata, infine, anche all'attuale opposizione, che secondo Muccio sarebbe priva di grandi idee e progettualità. Pertanto benvenga la presenza del consigliere regionale Michele Iorio, se ciò serve ad una maggiore e proficua collaborazione con la maggioranza del centrosinistra, contribuendo con una dialettica propositiva ad ulteriori proposte per il bene del popolo molisano. Torniamo a parlare del progetto Gran Manze, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ultimo atto del Governo Letta, ha approvato sette contratti di filiera di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tra i quali anche quello Gran Manze della Granarolo. Ad esprimere forte dissenso il comitato Nostalla. Facciamo appello ai sindaci e alle organizzazioni sindacali e di categoria alla Regione per rappresentare al Governo la sua contrarietà all'insediamento nel Molise di un progetto che gli nega il futuro. In relazione al progetto Gran Manze, il senatore Ruta, in una nota, ha ribadito la posizione espressa dopo la decisione del Consiglio Comunale di Termoli, ovvero la proposta va archiviata in ossequio alla decisione democraticamente assunta dall'assise del capoluogo del Basso Molise, ha concluso il senatore PD. La questione del raddoppio ferroviario sulla tratta Termoli-Lesina, al centro dell'incontro tra l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nagni e rappresentanti dei comuni di Termoli e Campomarino. Intanto martedì a Roma l'incontro tra lo stesso Nagni e l'amministratore delegato di RFI Michele Mario Elia. Sentiamo. Chiarire la posizione del Molise in merito al progetto riguardante il raddoppio del tratto ferroviario Termoli-Lesina, l'unico tratto rimasto a binario unico e determinare il quadro delle autorizzazioni in una linea di alta velocità sono alcuni degli obiettivi dell'incontro tra l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nagni e i rappresentanti dei comuni di Termoli e Campomarino. Il Molise non deve essere considerata come terra di passaggio né come terra di conquista, ha precisato Nagni, che martedì prossimo incontrerà a Roma i vertici di RFI. Dobbiamo determinare le nostre posizioni, le posizioni della regione, le posizioni del comune di Termoli e del comune di Capolino. Stiamo lavorando perché questa posizione sia unica e sia costruita in piena sinergia con le amministrazioni e con i sindaci di quei comuni. Dobbiamo intervenire sulla valutazione di impatto ambientale, sulla via e sulla localizzazione urbanistica. Sono due aspetti per noi fondamentali. Ripeto, non bloccheremo certamente un'opera così ampia, ma qualcuno deve anche capire che tra l'Abruzzo e la Puglia c'è il Molise. Presenti al tavolo il sindaco di Termoli Antonio Di Brino, che ha puntato ai piedi sulla decisione espressa qualche mese fa. Se non si accetta la nostra posizione, torneremo sulle compensazioni. Noi siamo anche d'accordo ad accettare il passaggio del secondo binario, purché ci siano le giuste compensazioni per i comuni che danno questa disponibilità. E quindi abbiamo chiesto in primis la delocalizzazione della stazione ferroviaria, però che non significa delocalizzare solo la stazione, significa spostare anche i binari, perché altrimenti non avrebbe senso spostare la stazione, avere poi i binari al centro di Termoli con i treni che passano a 200 all'ora. Mettere l'edilizia al centro della politica regionale. Questo il messaggio che il presidente del Lance Molise, Umberto Uliano, ha lanciato al presidente della regione Frattura, intervenuto alla riunione del consiglio direttivo dei costruttori edili di Confindustria Molise. Nel corso della riunione il presidente Iuliano, a nome del Lance Molise, ha consegnato al presidente Frattura un documento di proposte per la risoluzione delle problematiche del settore edilizio regionale, composto da sette punti fondamentali per rilanciare il settore, che vanno dai temi della ricostruzione a quello dell'autostrada, al patto di stabilità ai pagamenti delle imprese. Frattura ha preso atto delle richieste della categoria, convenendo sull'urgenza che il settore torni ad essere quel volano di crescita della regione, come accaduto in passato. Ci spostiamo a Bonefro, comune del cratere molisano, dove i cittadini che hanno subito danni su immobili di classe A continuano a pagare l'IMU al 50%, a differenza di quanto avviene in altre regioni terremotate come Abruzzo ed Emilia, dove i residenti sono totalmente esenti poiché usufruiscono del decreto Monti. Sentiamo. I cittadini del comune di Bonefro vengono trattati come terremotati di serie B, questo perché a differenza di altre regioni non usufruiscono dell'esenzione del LIMU sul proprio immobile di classe A, come confermato dal consigliere di opposizione Rosario Remita. A Bonefro i terremotati, cioè gente che abita nelle casette, ovvero in autonoma sistemazione, paga sulla propria casa inagibile il 50% della tassa, mentre in Abruzzo e in Emilia Romagna sono stati esentati dal decreto Monti, dalla legge nazionale. Ma oltre a ciò i residenti di Bonefro, che hanno tuttora la casa inagibile e sono costretti a vivere ancora nel villaggio alle porte del paese, si trovano di fronte al fatto che i residenti all'estero originari del paese molisano sono esenti dal pagare l'IMU su iniziativa dell'amministrazione comunale. Se il comune decide di non far pagare i residenti all'estero sull'unica casa che hanno il comune, va benissimo e a maggior ragione non dovrebbero pagare quelli che vi risiedono e hanno avuto la svendura del terremoto. Petraroia che ha le politiche sociali ha apprezzato il gesto fatto dal comune di Bonefro. Lei cosa pensa riguardo? Penso che abbia fatto bene ad apprezzare il gesto, però ha trascurato che a Bonefro, essendo un comune del cratere, vi sono molte persone che vivono nel villaggio e in autonoma sistemazione e credo che abbiano anche loro diritto ad una considerazione da parte dei politici e quindi sarebbe opportuno che almeno anche loro venissero considerati e quindi esentati da questa tassa. Dunque i terremotati di Bonefro sono doppiamente svantaggiati, dal lato perché devono pagare l'IMU a differenza di altre regioni terremotate e dall'altro perché il comune, per provare ad arginare il fenomeno dello spopolamento del paese, ha agevolato i residenti all'estero piuttosto che i propri cittadini. Scarsa attenzione dell'amministrazione comunale di Bartolomeo verso le segnalazioni degli abusivismi commerciali da parte di attività emergenti che somministrano alcolici utilizzando la licenza di vendita, questa la problematica lamentata dall'Associazione Pubblici Esercizi Molise. Sentiamo. È scontro aperto tra l'Associazione Pubblici Esercizi Molise e l'amministrazione comunale di Campobasso. Al centro della questione la scarsa attenzione verso le segnalazioni relative ad abusivismi commerciali da parte di attività emergenti che somministrano alcolici utilizzando la licenza di vendita. Inoltre il decreto Balduzzi numero 158 del 2012 in materia di salute prevede il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche dalle 24 alle 6 ai minori di 18 anni e viene sancito l'obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, obbligo troppo spesso non rispettato. Oramai l'amministrazione comunale consente l'apertura anche di attività pseudo, attività di somministrazione che si nascondono tra virgolette dietro autorizzazioni di vendita mentre sono a tutti gli effetti attività di somministrazione ecco perché uno deve chiarire alcuni aspetti. Se è un'attività, se l'attività stessa si definisce vendita a quel punto deve bloccare la somministrazione dalle 24 alle 6 mentre noi siamo tenuti a bloccare la somministrazione dalle 3 alle 6 la mattina. A suon di note stampa e interviste il presidente dell'APEM Paolo Sant'Angelo denuncia a gran voce la gravità della situazione vissuta da un comparto economico già pesantemente provato da tassazioni e pressioni fiscali. Per non parlare poi della vivibilità del centro storico. Le amministrazioni comunali devono vietare dove ritengono che ci siano problemi di vivibilità e sostenibilità e credo che nella zona centro storico ci siano questi problemi. Quindi non vedo il motivo per cui l'amministrazione comunale non si muove in tal senso. I 106 dipendenti di esattorie SPA, tra cui 68 molissani, potranno beneficiare della cassa integrazione in deroga fino al prossimo 31 marzo. Lo ha reso noto l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia dopo la firma del verbale di accordo tra il ministero e le organizzazioni sindacali. Lo sblocco della cassa integrazione in deroga per il primo trimestre del 2014, ha detto l'assessore, apre la possibilità di avviare la stipula di verbali d'esame congiunto anche per altre aziende e lavoratori. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Vediamo insieme gli incontri in programma per la sesta giornata di ritorno della serie D Girone F e la relativa classifica. Fermana Fano, Matelica Ancona, Vispesaro Boiano, Celano Giulianova, Termoli Sernia, Olimpia Agnonese Iesina, Angolana Maceratese, Civitanovese Recanatese, Amiternina Sulmona. Vediamo la classifica. Ancona in testa con 50 punti, segue il Matelica 46, Termoli e Maceratese, Vispesaro 38, Giulianova 34, Iesina 32, Fermana Sulmona 30, Celano 29, Civitanovese 28, Alma Juventus-Fano 27, Olimpia Agnonese 26, Amiternina 25, Recanatese 23, Isernia 18, Renato Curi-Angolana 14, chiude il Boiano con tre punti. In serie D tutti gli occhi sono puntati sul derby tra Termoli e Isernia, due squadre che non sanno più vincere in questo 2014. Per l'Agnonese è partita casalinga contro la Iesina, mentre per il Boiano trasferta sul campo della Vispesaro. Vediamo. In serie D è tutto pronto per la sesta giornata di ritorno. Tutte le attenzioni sono per il derby tra Termoli e Isernia. Una partita che segna il crocevia di una stagione. Entrambe le squadre arrivano al match incapaci di vincere in questo 2014 ed entrambe si trovano afflitte da una sindrome di pareggi che dura ormai da cinque giornate. Quello di domenica sarà sicuramente un match bloccato tatticamente con il Termoli chiamato a fare la partita e con i Pentri impegnati a tenere le maglie dei propri uomini molto strette per evitare goleade. In casa Pentra, oltre al rientro di Pepe fuori per squalifica nelle giornate precedenti, torna anche Quintigliani, ma tra le note positive c'è sicuramente la buona condizione fisica del duo d'attacco Panico e Riccardi, due giocatori che hanno trovato con il passare delle giornate la giusta intesa. In casa giallorossa ci si è allenati tutta la settimana a porte chiuse per provare a ritrovare la strada della vittoria. Per Giacomaro nessun dubbio di formazione con il solito 3-5-2 che in questa stagione ha alternato momenti felici a momenti da dimenticare. Dal Basso Molise passiamo all'alto dove l'Agnonese e la ricerca di punti salvezza per evitare l'incubo play-out. Domenica arriva alla Jesina, una formazione ostica che nonostante abbia un organico competitivo si trova a lottare per non retrocedere. I Maltigian hanno all'attivo 32 punti e devono prestare molta attenzione alle inseguitrici, tra cui i Granata e proprio per questo venderanno cara la pelle al Civitelle. Mister Urbano domenica potrà contare sulla migliore formazione. Con Pifano che scalpita per un posto da titolare sulla fascia destra, dopo aver recuperato dal proprio infortunio. In grande spolvero sono anche i centrali difensivi Litterio e Antonelli, in crescita nelle ultime uscite dei Granata. Ma Urbano si aspetta tanto da Esposito, unico giocatore Granata in grado di spostare gli equilibri di una partita attraverso una delle sue giocate. Per i matesini del Boiano la trasferta di Pesaro prevede la solita goleada domenicale, in una stagione che tutti si augurano volga al termine il prima possibile. Vediamo ora nel dettaglio le designazioni della sesta giornata di ritorno della Serie di Girone F per le Molisane. Vis Pesaro Boiano, Capovilla di Verona, Saviano e Nuzzi di Valdarno. Per quanto riguarda invece la partita, olimpia agnonese Iesina, Fusco di Brindisi, Papagallo di Molfetta e Di Bello di Barletta. Termoli, Isernia, Vingo di Pisa, Rega di Bari e Robusto di Foggia. Il Campobasso, dopo la parentesi della Coppa Italia, è pronto per il match di domani contro la Cliternina, partita a cui Farina tiene molto e in cui spera di recuperare qualche giocatore acciaccato. Vediamo. Il Campobasso 1919 scalda i motori in vista della partita casalinga di domenica contro la Cliternina, squadra che all'andata ha messo a lungo in difficoltà il rosso-blu, soprattutto nel primo tempo, ma poi i lupi sono riusciti in quell'occasione a portare a casa i tre punti. Quel Campobasso era una squadra ancora in rodaggio, ora i lupi sono un gruppo solido e affamato, deciso a riconquistare il prima possibile la Serie D. Mister Farina continua a mantenere alta l'asticella dell'attenzione ed è inquadrato così il match di domenica contro la Cliternina. Domenica prossima, Cliternina, una partita importante alla ricerca della vittoria, ancora un'altra vittoria in campionato. Sì, è il nostro destino, noi dobbiamo vincere sempre, fino a quando non sarà il campionato vinto matematicamente. Noi cercheremo di dare il massimo, come tutte le altre domeniche. Dunque il Campobasso è alla ricerca della ventunesima vittoria di fila in campionato e della trentaduesima compresa la Coppa Italia in questa stagione, per portare a casa il prima possibile questo torneo e per tornare a calcare palcoscenici degni di questo nome. Bene, con il Campobasso concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per domenica 16 febbraio. Persistono condizioni anticicloniche sulle regioni di sud-est con il sole che dominerà la giornata. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali con locali rinforzi tra sera e notte. Mari generalmente mossi, specie a fine giornata. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi sia nei minimi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 11, massima 16 gradi. Isernia minima 7, massima 20 gradi. Termoli minima 11, massima 19 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al cinema maestoso. Il meteo è stato offerto da